A ore 18.30 del giorno 14 giugno 2017, il sottoscritto ha proclamato e eletto alla carica di consigliere del Comune di Gaeta i seguenti candidati, fatte salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale a termini dell'articolo 41,1 del decreto legislativo 267 del 2000, Pasquale De Simone, Giuseppina Rosato Dettacina, Marco Di Vasta, Luigi Martullo, Teodorinda Morini, Gennaro Dias, detto Dias, Katia Pellegrino, detta Giovane, Pietro Salifante, Angelo Magliozzi, Luigi Coscione, Gianna Conte, Emiliano Scilicariello, Massimo Magliozzi, Franco De Angelis, Luigi Gaetani, detto Gino, Luigi Passerino.